Robby ascolti senatore, Robby ascolti senatore Centro Italia, Criminal Criminal ascolti senatore Centro Italia, Robby ascolti senatore Centro Italia, Robby ascolti senatore Centro Italia, Criminal Ragazzi non me ne volete che mi stanno come trovando vicino, sono cinque normali qua Roberto, siendo senatore in mezzo agli sflageri, Roberto Positivo, Peppe, ti ho sentito in mezzo agli sflageri, Peppe Buongiorno ancora, caro Gli dobbiamo portare l'antella a un anno, a un anno, gli dobbiamo tagliare l'antella Ma si, tra poche ore di pranzo che va a mangiare, Robby, arriva il momento più importante della giornata per lui, vabbè, cambio Positivo, Peppe, positivo, no? E' una cosa bellissima, Peppe, arrivava che era uno spagnolo, eh? Sì, sì, positivo, dai, il nano ha una stazioncina di tutto rispetto, la usa poco solo per le prove, ma è una stazioncina efficiente, dai Positivo, Peppe, per tre, tutta la scena Sulla centosegione, capa Due chilometri, ci vincoliamo e andiamo a sommare dall'altra parte di capo risulto Operazione, trasporto di aria da parte mia, misto al centro Positivo, rampa K, Robby, positivo, dai, ho rimesso il 26 dal LED blu, sembra che funziona bene ancora, dai Sembra che funziona bene il LED blu ancora qua, Robby, cambio Positivo, per tre, ho rimesso il 26 dal LED blu, eh, che deve passare, forse Ci sediamo dopo, per te, un abbraccio, caro Ciao Robby, buona giornata, buon trabacco di carico, ghiaia Buona giornata, se non ci ascoltiamo più E buon divertimento propagandale, Robby, senatore, versione 126 bis di saluta, cambio Io 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 La Sந So Grazie a tutti.